Inutile fare giri di parole ma la classifica parla chiaro, i numeri in questo caso sono lo specchio dell'anima, il cammino delle formazioni aritine della Serie D è decisamente negativo e tutto lascia presupporre che con questo andazzo i play-out siano assicurati se non ci sarà una netta inversione di tendenza. La fotografia attuale della classifica parla chiaro, sia il Montevarchi che la San Giovannese che il San Sepolcro ad oggi sarebbero costrette alla coda per la salvezza, i margini di sicurezza sono esigui visto che la zona rossa è vicinissima e le squadre non danno concreti segnali di riscossa da questa apatia generalizzata. La formazione messa meglio si fa per dire in classifica il Montevarchi che ha visto peggiorare le sue quotazioni nelle ultime settimane dopo timidi segnali di riscossa, soprattutto grazie alla verve realizzativa di Priore. Finora gli Aquilotti hanno collezionato tre vittorie, quattro pareggi, sei sconfitte, gol fatti 11, subiti 16. Il Borsino del San Sepolcro è migliorato leggermente nelle ultime partite con 11 punti all'attivo. Il Borgo ha cambiato guida tecnica dopo una vittoria via Bricca per Bonura che ancora però non è mai riuscito a vincere. L'unica consolazione è che non ha mai perso ma è chiaro che per uscire dal guado deve migliorare lo score che recita di due vittorie, cinque pareggi, sei sconfitte, gol segnati 9, subiti 19. Chiude il cerchio la squadra che annaspa di più ovvero la San Giovannese con nove punti all'attivo frutto di due vittorie e tre pareggi. La Sangio ha cambiato guida tecnica ma l'esordio di Rigucci per Bencivenni non è stato fortunato visto che a figlie della partita non ha avuto storia. Insomma un quadro caratterizzato da grosse difficoltà. Ora c'è il mercato di riparazione per cercare di riadrizzare le rispettive situazioni.